Nave Merigo Vespucci è la nave più anziana della Marina Militaria Italiana, costruita nel 1931 da allora e la nave scuola dove gli allievi della prima classe dell'Accademia Navale, al termine del loro percorso formativo in Accademia, hanno il loro primo incontro col mare, con gli elementi e con la vita di bordo. Ma è anche un assetto di diplomazia navale, un'ambasciata galleggiante, quindi all'interno di questo progetto è un portavoce di valori, tradizioni, cultura, tecnologia, ricerca e tanto tanto made in Italy.